La fisica è in un momento molto interessante, al bordo tra partire direttamente verso le grandi imprese e anche coltivare la ricerca su piccola scala. Abbiamo avuto la scoperta del bosone di X qualche anno fa, che è stato certamente un traguardo molto importante, a cui anche la fisica italiana ha partecipato molto da vicino, e ultimamente la rivelazione delle onde gravitazionali, un successo fantastico che segue 20 anni o più o 30 anni di ricerca. Ci aspettiamo che sia sulla fisica fondamentale che sulla fisica delle onde gravitazionali ci siano nel futuro degli sviluppi interessanti. Certamente siamo sul bordo di scoperte notevoli. Naturalmente le scoperte non vengono così su ordinazione, ci vuole pazienza, ci vogliono investimenti e bisogna che le persone giovani siano attratte da questi campi e impegnino la loro intelligenza e il loro talento.